Caso Lescano, ora serve buonsenso da parte di tutti a delicare il compito che il ruolo gli impone, quello di mediare per tentare di ricucire lo strappo tra tecnico e calciatore. L'unica maniera per cercare di porre fine ad una vicenda diventata col passare delle settimane a dir poco stucchevole. In questa sessione di mercato per Lescano offerte concrete sono arrivate da Ferralpi, Salò, Padova e Crotone, tutte rispedite per svariati motivi al mittente. I tre club hanno poi virato su altri obiettivi, la Ferralpi su Butic, il Padova su Bortolussi, il Crotone sull'ex Biancazzurro Cernigoi che la Ferralpi Salò aveva inserito nella prima offerta ufficiale fatta al Delfino. Poi si è mosso il presidente del club lombardo Giuseppe Pasini che circa due settimane fa ha incontrato a Roma senza esito Daniele Sebastiani. Resta la Triestina ma l'operazione non si concretizzerà. Lo stesso Foggia che ha ceduto Vutai al Novara è tornato alla carica ma non se ne farà nulla. Dal resto privarsi ora di Lescano significherebbe dover trovare un degno sostituto nei pochi giorni che restano da qui alla conclusione della finestra invernale fissata per martedì 31 gennaio alle ore 20. Il tempo stringe e un potenziale rimpiazzo oggi non c'è. Nell'attuale Rosa Lescano offre tante garanzie. Sa giocare, è una sorta di play offensivo con tutti i vantaggi che ne derivano. Soprattutto fa gol. Ecco perché il buon senso prima di ogni cosa da parte di tutti, nessuno escluso. Sull'esterno mancino d'attacco e la mezzala di inserimento non ci sono novità. La sensazione è che saranno decisivi gli ultimi due o tre giorni di mercato. Intanto Delicarri ha virtualmente chiuso con lo Sporting Lisbona l'ingaggio del difensore centrale Etienne Catena, classe 2004, 19 anni compiuti lo scorso 1 gennaio. Cresciuto nella Roma l'Italo-Ivoriano arriverà a titolo definitivo al club portoghese il 50% del ricavato dell'eventuale vendita futura. Si tratta di un giovane di prospettiva.